Partiamo dal 10 con il salotto letterario a piazza Gibivico 10 e 11 con le visite guidate al Teatro Marruccino e con delle mostre abbastanza significative nel nostro Museo Barbella. Per poi passare al 12 con la cerimonia della consegna della medaglia d'oro alle 17.30 presso il Teatro Marruccino e con un concerto alle ore 21 a piazza San Giustino. Dopodiché ci sono altri momenti abbastanza significativi, il 14 sempre a piazza San Giustino avremo l'orchestra sinfonica abruzzese e ci sarà anche la partecipazione di Michele Mirabella poi il 15 avremo un altro concerto a San Giustino con il maestro Di Battista e poi si concluderà la settimana mozartiana con un concerto della Filarmonica del Lussemburgo omaggio a Beethoven che è questo concerto che si terrà appunto nel Teatro Marruccino il 17. a San Giustino